Si parlava di attendere fino al 2023 per vedere riaperto il ponte dell'industria, il cosiddetto ponte di ferro che collega i due quartieri romani di Marconi e Ostienze. Ed invece l'amministrazione Gualtieri ha bruciato tutte le tappe effettuando i lavori in tempi record. Domani la struttura sarà nuovamente accessibile al traffico veicolare. Dopo quello che è accaduto era importante lavorare in fretta perché è un nodo di viabilità importantissimo che collega due quadranti importanti della città. Saranno autorizzati a percorrere tutti i mezzi sotto le 3,5 tonnellate e poi ci saranno dei lavori di definizione del consolidamento che verranno fatti in questi mesi. Ma l'importante è che le analisi ci dicono che il ponte in questo momento è in sicurezza e che può essere percorso. La chiusura del ponte, oltre a causare diversi disagi al traffico con i cittadini costretti a percorrere strade alternative per passare al di là del Tevere, ha influito notevolmente sull'economia delle attività commerciali presenti nella zona. Oltre al calo ovviamente della media lavorativa dovuta al fatto dell'inverno e comunque col freddo la gente tende a uscire meno, in più il ponte di ferro ci ha dato una bella batosta dopo anche i due anni di covid che ci siamo visti passare alle spalle. Quella sera tu eri qui, che cosa è successo? Raccontaci un po'. Piano piano sono iniziati ad arrivare tutti i lapilli dell'albero che bruciava, quindi abbiamo iniziato a spostare tutte le persone all'interno e ci siamo iniziati ad allarmare, ovviamente abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco. A un certo punto è andata via proprio la luce perché sotto il ponte di ferro ci stanno tutti i fili elettrici che collegano i cavi della luce e quindi illuminano tutte le zone. Lì è iniziato ad esserci un po' più di ansia e paura. Dopodiché siamo stati chiamati proprio dalla polizia a uscire fuori, a evacuare la zona. Quanto accaduto alla struttura ottocentesca ha invitato l'amministrazione capitolina a fare una riflessione su ulteriori future opere di restauro per permettere il passaggio di veicoli di maggior peso e dimensioni, tanto che l'assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini ha avviato in merito un tavolo di confronto con la soprintendenza speciale di Roma. Questo tavolo di confronto ci consentirà di restituire a quel ponte un utilizzo maggiore che è fondamentale per il collegamento tra i due quadranti della città ma è anche fondamentale come snodo e nodo di viabilità proprio per la città stessa. E il weekend di inaugurazioni non si ferma al ponte di ferro. Oggi infatti è in programma anche il taglio del nastro del cavalcavia ciclopedonale su via Laurentina all'altezza dell'uscita del graffiumicino via della Magliana.